Ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video siamo finalmente ritornati su GTA San Andreas perchè si è bello anche se è già uscito il 5 per pc non importa è bello no non è vero è più bello GTA 5 però non posso registrarlo perchè ovviamente ho compiuto del cazzo e quindi finiamo direi di finire GTA San Andreas io direi di iniziare subito avevamo da fare le missioni le missioni del dei degli non riesco più a parlare sono scemo dell'aeroporto cosa succede? cosa devo va bene con il jetpack devo andare va bene devo andare a prendere un treno non ho ben capito ok ok tassi me li ricordo circa ma proprio circa circa e noi stiamo viaggiando con un jetpack perchè è bello a quanto pare ah voglio GTA 5 non voglio giocare a questo schifo no non è vero San Andreas è bello però GTA 5 è più bello anche se mi parti di merda non importa ah ah no no che cazzo ah ah cosa succede ah ah ma che cazzo che no cosa ah perchè si è invertito ma che palle che cazzo succede perchè si è invertito tutto cosa cosa no muori ma che cazzo ma che cazzo di missione è cosa cosa devo fa scusi ce l'ha un momento per il nostro signore Gesù Cristo oh buongiorno posso andare dentro il carro armato ti prego dimmi di sì ma ma sei ancora vivo ma non muoiono ah cosa volare oh cosa succede ah eh ma no ma che palle eh ma non capivo cosa succede non ho ben capito cosa è successo vabbè ricominciamo vabbè abbiamo iniziato bene questa questa non riesco più a parlare non sono più abituato a parlare basta mi disiscrivo dal mio perché salti col maiuscolo CJ cosa sta succedendo e noi beatamente vogliamo col nostro jetpack in mezzo alla radura di Las Venturas fa anche rima sono bello faccio rime e questo è un ruto gratis ah ah oh ma che cazzo ma non vedete che c'è un tizio in jetpack ma siete matti ok c'è il treno il trenino della felicità per trovare il contenitore della poltiglia verde ma che cazzo cosa sto leggendo oh e muori vai giù CJ vai giù cosa devo fare oh la cassa è vuota ma dai cazzo c'è il tunnel cazzo c'è il tunnel c'è il tunnel giù giù CJ giù bravo stai giù aiuto cosa succede che cazzo che missione io sono più veloce di usare il bolt quanto sono veloce aiuto sono veloce quanto il treno aiuto la cassa è vuota ma come mori mori ok ce la stiamo facendo dove cazzo è l'ultimo eccolo eccola la roba verde devo portarla a truff al fattone corri CJ ah no non investirmi sono solo un tizio col jetpack non voglio problemi si è droga è droga vero ma sei come quelli di Lost che non si capisce mai cosa di oh le ho finite finalmente queste missioni oh sono contento oh 10.000 dollari a botta finalmente un po' di soldi comunque il signor ecco quello lì il tizio fattone è peggio dei protagonisti di Lost non ti spiega mai cosa succede vabbè e quelle della fidanzata le farò prima o poi le farò un mega puntatone romantico c'è nel senso che durerà 5 minuti di tutti di tutti gli appuntamenti e le scopate che si fa il tizio e buona lì yeah sono l'uomo più veloce del mondo non è vero non è vero mai piano piano giù giù io direi di cambiarci d'abito alla sadomaso caverna questa è una rapina ah no ahia ho preso un palo in faccia però l'ho trapassato perchè sono un fantasma a quanto pare con questa tuta io sono invincibile no non è vero uh ho capito qual è oh che bello che bello eh si eh si ragazzi bisogna andare a far esplodere una diga che belle cose no non voglio la radio grazie ok oddio non mi ricordo più i tasti di come si si vola come si ah ok si vola così bene non mi ricordavo più scusate oh mio dio aah è tutto così complicato no non è vero oh si no cazzo qua c'è l'area 69 no non devo passarci in mezzo ah ah dov'è non so dove sono non capisco dove sono no così va in stallo ah sta andando in stallo ok e anche olio ah no quella è un'altra cosa scusate queste battute tristi vai da dove si è buttato poi c'è dove vai aereo no non andartene dove sta andando aereo no povero aereo dove cosa succede ecco va bene devo andare di là ok yeee ma adesso mi spiegate cosa serviva che potevo arrivare per mare pronto nessuno che me lo dice cioè poteva benissimo arrivare per acqua perché perché mi devo paracodutare ah perché è chiuso lì ah no c'è la scala ma ma c'è la scala ma ma perché allora cosa è servito pronto nessuno che mi risponde ta na 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 come fai a non vedermi ma cazzo sono nero è del giorno come fai a non vedermi pronto signora guardia la guardia scema non riesce a vedermi ma che cazzo ma dai davvero non l'avrei mai detto grazie non serviva che me lo dicessi tu eh ole eh madonna che mira sto diventando un pro un provolone però vabbè non importa ole un altro esplosivo piazzato ta na 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 parara ta na 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 andiamo dentro al muro cosa succede perché mi danno una stella ma non dovrebbero scoprirmi mi danno le stelle a caso vabbè polizia polizia oniveggente a quanto pare tiè muorici ma dai ma cazzo c'è la polizia veramente oniveggente com'è possibile si dove cazzo sei finito cj sei un genio come hanno fatto a scoprirmi come cazzo hanno fatto ma dai ma sono stato steltissimo com'è possibile cj dove vai cj ok ok oe l'ho già finita madonna è stato velocissimo bene signori mi dicono che il tempo mi ha avverso cioè nel senso che la registrazione ormai è andata per le lunghe io direi che ci vediamo la prossima puntata spero di riuscire a farveli un pochino più attaccati questi episodi scusate per i vari casini i vari fatto che non sono mai stato costante eccetera ma capitemi ho anch'io i miei problemi e poi in questo periodo non avevo tanta voglia ve lo confesso scusate vi chiedo scusa vi chiedo umilmente perdono come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto non so più parlare come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto di iscrivervi commentare condividere mettere vi piace se vi va e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao fiori